Ciao carissimi amici, allora avevo aperto un concorso che terminava e si chiudeva appunto il 10 di maggio non avete partecipato in tanti, anche se devo dire grazie invece a chi lo ha fatto perché insomma una decina di ragazze hanno partecipato sul gruppo di passo per passo ed è un peccato perché avete perso un'occasione ma non solo di ricevere un piccolo pensiero perché era un momento dove potevate dedicarlo a voi, ecco delle piccole foto comunque abbiamo sempre il telefonino in mano, tante tante di noi hanno il telefonino in mano si fa tantissime foto, sarebbe stato carino, mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata una partecipazione un pochino più importante però tra le ragazze che mi hanno inviato i video io non potevo non sceglierne uno perché io penso che lei abbia veramente capito che cosa intendevo si chiama Nadia, ha fatto delle bellissime foto, dopo ve le metto subito dopo il mio piccolo intervento ha fotografato i suoi gatti, ha fotografato ciò che la circondava, quindi sia le rose in fiore che il verde ma ha anche fotografato la sua vita, quindi le sue passioni, quello che la circondavano veramente quindi i libri sul comodino piuttosto che dipinge, quindi ha fotografato le sue tele bianche che ancora devono essere dipinte quindi mi è piaciuta molto, oltretutto si è impegnata perché ogni foto è stata poi rivisitata e ritoccata con delle modifiche attraverso quindi delle applicazioni che l'hanno resa ancora molto più carina e più interessante quindi, cara Nadia, hai vinto LOL l'acqua aromatica di carota di Remedia Erbe così te ne vai al mare e la pelle è già bella preparata in più metto questo video online va bene? vi saluto a tutti, un bacio brava Nadia! grazie 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 grazie